Me sento solo, mai nessuno che me vea trovà, mai nessuno che dice, non mi trova che io poraccio, me sento solo, solo e abbandonato. Gidio, siamo noi, apri, che siamo venuti a fare una visitina, Gidio, apri, siamo noi, che siamo venuti a fare la sorpresa. Siamo noi, Gidio, siamo noi, siamo noi, Gidio. Perché la gente non se ne sta alla casa? Perché la gente esce? Perché? Per quale motivo? Perché? Per quale motivo? Gidio, siamo pensato, perché non andiamo a trovare quello sventurato di Gidio? Siamo pensato? Siamo pensato, siamo noi, Gidio, siamo noi, siamo noi, Gidio. Perché la gente pensa? Che pensa a fare la gente? che pro pensa? A quale scopo? A fondo perduto, pensa. Perché? Per quale motivo? Gidio, apri, tanto lo sappiamo che stai nascosto in casa, che siamo sentito bestemmiare. Te siamo sentito? Siamo noi, Gidio, siamo noi, siamo noi, Gidio. Perché uno deve far entrare a casa sua la gente anche quando non gli va. Perché? Per quale motivo? Entrate, forse? Ce ne stiamo quasi anni, Gidio. Non te siamo sentito bestemmiare, siamo pensato, Gidio, a casa a quest'ora non ci sta di certo. Non te siamo sentito, siamo pensato, siamo noi, Gidio, siamo noi. Vi trattenete tanto o ve ne andate a fanculo subito? Cinque, sei ore, Gidio. Tempo di far una chiacchierata, tempo di risollevarti il morale e ce ne andiamo. Tempo di chiacchierà, tempo di risollevà, tempo di di una volta per tutte. Siamo noi, Gidio, siamo noi. Siamo sempre noi, Gidio. Ci sta poco da fare. Te stiamo a marca stretto, Gidio. Siamo sempre noi. Vabbè, noi ce ne andiamo, Gidio. È stata una serata sperimentale. Te la ricorderai per parecchio tempo. Ciao, G, ciao. Quando senti suonare al campanello, ricordati, Gidio, che è facile che siamo noi. Niente di più facile che siamo noi, Gidio. perché uno si lamenta quando sta da solo? Perché? Per quale motivo? La solitudine non è una disgrazia, ma è una grazia di Dio. Siamo noi che stiamo bene. Siamo noi. Grazie.